Non ci sono più contenti di aver detto qui per non significare un rispondo che non ci permette di discriminare non ci permette di discriminare non ci permette di essere che non ci permette di essere un tratto e di essere un diritto non ci compremmo cosa c'è non ci compremmo cosa c'è ma ci permette di essere un rispondo per la nostra luce per comprenderlo è qualcosa di un'igualtà in un paese e il diritto umano non ci permette di essere un argomento per anche voi o per un altro c'è non ci permette di essere un argomento non ci permette di essere un rispondo o se che ci permette di essere una cosa per esempio di l'adopzione sia una cosa possibile ci permette di essere un rispetto positivo? Chiede a me Sì, con questo questo è un rispondo che non si ci permette di essere ma cosa disposti all'adopzione e non si può fare un rispondo ma di essere un rispondo regalare se stanno messi, se non mi tornerà bene. In un Stato di Derecho, regalare il Stato, la Constituzione, e che dà alcun principio basico. Un innanzitutto, per esempio, è stato uguale. E questa è una parte delle leine che non è una buona regla. Il Parlamento scuola di noi, due cittadini a Bayeues, con una fondazione, non è successo. Il governo per un viacaba, un accordo di appellazione, il governo per un viaggio di un accordo di appellazione, e il governo vuole perdere. Il governo è un accordo di appellazione, e il governo è un accordo di appellazione, che è un problema, e il nostro paese è un progetto, il nostro paese è un paese è un paese. E ora, qui c'è possibilità, che un certo gruppo di appellazione, che non è un caso, o almeno una notazione, che non è un gruppo, che cosa è un messaggio, che ha detto? che non è un messaggio. E ora, ricordi, come pari, e se è un paese, che tipo di ricordi sono? C'è un ricordi che, che non è un rispettino, che non è un problema, che non è un problema, che non è un tipo di ricordi, che non è un progetto, che non è un problema, che non è un progetto, la sua vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita di cui mi ha un diablo ci sono un diablo, ci sono una società che è un po' di uso del suo potere o che si tratta di un placa per usare il suo potere per prendere il governo da l'altro, ma ogni ciò che è un po' di loro che c'è un paese? E' una cosa che ci s'entrae, ci sono un po' di loro ci sono un problema, ci sono un po' di loro Per esempio, nell'idea, nell'englazione, dell'Inglese con la Unione religiosa. Non si vell'avano di noi. Non si ha di dialogare. Di dialogare è una base di respeto di mutuo. Di dialogare è una idea, per comprender che, per esempio, una religione ha un'idea che si fa una vita di amici. Una idea o un'idea ha un'idea che si fa una vita di amici. Non come leo, ma meglio, esани come la base di una religione di libertà, per aver guardato la mia vita e non di altra gente andando su papi. E' quello che va a fare qui. E' una discussione della legge, questa è quella che è la sua famiglia. Per quello che è più importante, per il popolo comprendere di quanto ha un freddo così qui.